Una depressione in quota sulla Germania, nucleata dal flusso principale, lambisce l'arco alpino, favorendo la formazione di un minimo sottovento sulle Alpi Marittime e sul Mar Ligure. Tale configurazione determina un temporaneo rinforzo di venti di libeccio sul Tirreno e un aumento dell'instabilità sul centro-nord Italia. In Toscana giovedì 12 luglio variabile sulle province settentrionali con possibilità di locali rovescio e temporali a carattere isolato e intermittente ma possibili per tutta la giornata, poco nuvoloso altrove, venti generalmente deboli occidentali, mari mossi a nord dell'Elba in attenuazione, temperature minimi in lieve calo, massime stazionarie. Sul territorio provinciale piogge alternate a schiarite notte e tempo migliora nel corso della giornata fino a cielo sereno. A Lucca e sulla Piana temperatura minima 18, massima 32 gradi. A Castelnuovo-Garfagnane zone montane minima 17, massima 28. A Via Regge sul litorale minima 20, massima 26 gradi. Venerdì cielo ovunque sereno, poco nuvoloso, temperature stazionarie.